L'inclusione passa anche attraverso il gioco dei bambini. Questo parco all'Aquila è un grande esempio di civiltà. Stare assieme senza pregiudizi né ostacoli, per questo un'area gioco aperta a tutti. Giochiamo Tutti è il nuovo parco giochi dell'Aquila in Viale Rendina, che sarà inaugurato sabato. Anche i bambini con disabilità potranno godere di un parco finalmente senza barriere. Il progetto nazionale Giochiamo Tutti fa tappa all'Aquila ed è promosso da FISH, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, e si avvale del prezioso contributo di Media Friends, Comune dell'Aquila, coordinamento delle associazioni di persone con disabilità di Massimo Prospero Cocco e giochi sport. Un'area bella e colorata che dispone però di accorgimenti specifici, tali da consentire ai bimbi con disabilità di giocare e divertirsi come tutti gli altri. Non è un'area speciale, in quanto è un'area aperta a tutti. Un regalo meraviglioso questo per la città dell'Aquila, un passo per la civiltà, che porterà avanti anche nella città, capoluogo di regione, l'idea di una comunità davvero a misura di tutti.